cari amici di mille un'avventura torniamo sullo sviluppo di videogiochi con unity e in particolare vogliamo provare a integrare la chat di twitch con un gioco abbiamo già visto in un video precedente che esiste una libreria twitch chat connect che permette di far leggere al nostro gioco il la chat di twitch e quello che vogliamo fare in questo video intanto prendiamo la mira e spariamo contro la costa con i nostri cannoni ecco quello che vogliamo fare è farci sparare dai viewers che sono sulla chat di twitch ma per rendere la cosa un po più interessante creiamo proprio la scena che avete visto poco fa andando a cercare delle navi sulla sull'asset store di unity ovviamente navi gratuite ma c'è un altro video sul canale dove potete vedere tante altre navi molto belle che si possono trovare appunto nello store di unity e che costano abbastanza poco per poter essere inserite nei propri giochi senza doverle ricreare qui vedete questa bella nave coloniale che è molto dettagliata poi c'è anche questa altra nave un po meno dettagliata ma le importiamo tutte e due nel nostro editor per potercele poi far bombardare dalla chat di twitch e importiamo quindi queste navi e ora le metteremo nella scena vicino all'isola che abbiamo preso da un altro video e che è generata proceduralmente se siete interessati a come è costruita tutta questa scena e volete vedere più nel dettaglio come si può fare chiedete nei commenti qui sotto e cercherò di creare qualche tutorial più dettagliato invece di questi video molto veloci che lasciano un po il tempo che trovano per chi vuole imparare a costruire qualcosa intanto stiamo posizionando le nostre navi qui subito fuori dalla nostra isola ed ecco qui l'isola con i suoi cespugli il mare realizzato concetto e poi le i due galeoni che navigano e vedete quanto sia dettagliato e bello questo modello completamente gratuito e si può popolarlo con qualche beh sì un po non c'è la stiva però tutto il resto c'è andiamo a vedere anche quest'altra molto buia la scena poi cerchiamo di illuminarla un po di più anche qui non c'è la stiva comunque tutto quello che si vede dall'esterno c'è ed è quello che ci interessa bene direi che la scena è rende l'idea e ora proviamo ecco a introdurre le esplosioni probabilmente sentite qualcosa ma dovreste vedere queste esplosioni contro l'isola quindi immaginate che stia sparando i cannoni della nave stiano delle navi stiano sparando su questa costa e ci sono perciò queste esplosioni però appunto vogliamo fare il contrario cioè non vogliamo essere noi a sparare ma vogliamo che chi sta seguendo il gioco magari su twitch durante una diretta possa sparare contro le nostre navi scrivendo opportuni comandi sulla chat di twitch e appunto grazie a twitch chat connect si può fare questa cosa qui però prima cerchiamo di rendere la luce un po più chiara perché ci sono delle ombre troppo nette e quindi schiariamo un po tutto modificando la luce d'ambiente e adesso direi che si vede ecco adesso c'è molto meno buio sulla tolda della nave in coperta e adesso va un po meglio la scena ecco dicevo con twitch chat connect si introducono una serie di script di questa libreria e poi altri elementi in questo caso per vedere quello che viene scritto sulla chat qui sulla sinistra vedete la chat di twitch del mio canale e qui a destra invece l'editor di unity ho adesso aperto la documentazione di twitch chat connect qui trovate tutte le indicazioni ed è gratuito quindi si può usare benissimo e adesso inseriremo dei comandi nella chat ecco vedete che ho scritto ciao si vede in piccolo e là in alto scritto in rosso nel gioco la chat funziona si possono anche inserire dei comandi ma il comando che ci interessa il comando bomb praticamente scrivendo punto esclamativo bomb e inserendo una coppia di coordinate dovrebbe esplodere una bomba nelle coordinate specificate ecco meno 300 meno 60 ha fatto esplodere una bomba nel gioco vicino alle navi e quindi riproviamo altre coordinate un po più distanti ecco qui è esploso sull'acqua ma tanto per far vedere no che funziona è chiaro che bisognerebbe modificare un po l'esplosione a seconda che sia nell'acqua o sulla terra e adesso proviamo a far esplodere di nuovo in mezzo alle navi no abbiamo sbagliato siamo troppo a sinistra proviamo un po più a destra cambiamo coordinate ancora poco possiamo avvicinarci molto di più inserendo le coordinate in chat vediamo dove capiterà questa volta ecco esploso lì in mezzo bene direi che la cosa funziona ovviamente va integrata bene nel gioco però i follower su twitch durante una sessione di gioco quindi l'abbiamo presa in pieno stavolta durante una sessione di gioco potrebbero bombardarci divertendosi anche loro bene non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in uno dei prossimi video ciao a tutti